Un anno fa le comunità Laudato Si si impegnarono per una campagna per ridurre l'uso di plastica monouso. Questa campagna è partita, ma sono più veloci le notizie di disastro ambientale che la plastica sta praticando che è il buon esempio e le buone virtù. Le ultime notizie sono che un'isola di plastica vicino all'isola d'Elba è ormai viva e operante nel Mediterraneo nei pressi di quello che è chiamato il santuario dei crostacei, quindi una seria minaccia per l'ecosistema. L'altra notizia è che l'Università di Sydney ha messo in circolazione una sua analisi per cui ognuno sul pianeta in una settimana riesce a mangiare una quantità di microplastiche equivalente a una carta di credito. Ecco, questa è una carta di credito. Pensate che ne mangiamo una a settimana, è ora di finirla, che questa plastica buttata via diventi veleno per tutti che noi.